Ci troviamo in Via Albere, nel Veronese, dove ieri, poco dopo le 7 del mattino, un tiro ha starzato improvvisamente per evitare l'impatto con un altro mezzo pesante, andando però a schiantarsi contro il sottopasso ferroviario che vedete alle mie spalle. L'incidente ha tenuto in scacco per diverse ore la zona tra Via Albere e Santa Lucia, provocando, oltre che danneggiamenti all'impianto di illuminazione, anche molti disagi al traffico. 47 i punti decurtati al conducente del mezzo, che, stando l'analisi del cronotachigrafo digitale, avrebbe guidato fino a 16 ore consecutive nei giorni precedenti. Tra le violazioni appurate dal gruppo controllo autotrasporto della Polizia Municipale, anche il transito in una zona vietata ai tir. Il mezzo a targa polacca trasportava marcia tedesca per aziende italiane, ed è ora sottoposto a fermo amministrativo fino a quando non verranno pagate le sanzioni per un importo di 4.000 euro. Multata anche la ditta, che non avrebbe vigilato sulla condotta dell'autista. Non sono rari gli episodi di concorrenza sleale e sfruttamento degli autisti da parte dell'azienda, ha detto il comandante della Polizia Municipale Luigi Altamura. Per questo, un gruppo di ufficiali ed agenti formati dalla Polizia, sono attivi sul territorio per verificare tempi di guida e riposo dei conducenti. Segnalata la motorizzazione civile, il provvedimento di inibizione alla guida per l'autista.